Questa mattina alle 10 a Maratea nel Potentino si svolgerà la prima tappa del tour Maratea a destinazione 2026, un viaggio attraverso l'Italia per una candidatura collettiva, con un tour che attraversa la penisola e celebra la costruzione di una capitale italiana della cultura, diffusa e partecipata, Maratea si mette in viaggio verso le audizioni che si terranno il 4 e 5 marzo e designeranno la capitale per l'anno 2026 al Ministero della Cultura a Roma. Saranno presenti diversi esponenti delle istituzioni con Stefano Rolando, presidente del Comitato Maratea 2026 e presidente della Fondazione Francesco Saverionitti, che illustrerà le sfide e l'innovazione del progetto di candidatura e dialogherà con l'architetto e scrittore Sandro Polci sulla centralità di Maratea come capitale delle alleanze. L'abbiamo fatto in modo partecipato a Maratea, a Potenza, a Moliterno, abbiamo riunito intorno a questo progetto il consenso dei nostri concittadini. Ora, rispetto a questo progetto, dobbiamo coinvolgere anche il resto d'Italia, perché abbiamo una serie di incontri anche a Roma e a Milano e concluderemo a Potenza, per dire che cosa? Che questa città, che da un punto di vista ambientale è stata tutelata perché abbiamo 32 chilometri di costa e un mare incontaminato e abbiamo tanti elementi per poter dire che Maratea si è innovata. Abbiamo la storia che, percorrendo Maratea, emerge da sola. Su questi elementi riteniamo di poter andare all'audizione e dimostrare come la nostra città ha le carte in regola per essere capitale italiana della cultura. Questo percorso serve proprio a contribuire a far nascere nuovi legami e a rafforzare i legami che già sono esistenti su questa candidatura, rafforzare il brand Maratea, rafforzare il brand Basilicata e ovviamente, puntando ad essere capitale italiana della cultura, dare un modello all'Italia di come una piccola città, ma con una grande storia, può effettivamente fare la differenza. Si lavora quindi per un sogno che può diventare realtà? Assolutamente sì. Già essere entrati nella short list è già quello un primo grande obiettivo che ci consente di sperare che a fine marzo possiamo essere noi la capitale italiana della cultura per il 2026.